MV Agusta allarga l'offerta approdando nel difficile e combattuto segmento delle Supersport. La carta vincente si chiama F3 e sotto le carriere nasconde un tre cilindri in linea da 675 cm3, che ricorda tanto quella dell'inglese Triumph, ma comunque la partita si gioca in casa, e lo stile della pepata F3 segue la filosofia del gruppo. Forma e design made in Italy si fondano insieme per dare vita ad un oggetto unico. Anche se caratterizzata da linee innovative, il concetto di Family Feeding è ben radicato nelle forme. Solida, stabile sul veloce e altrettanto agile quando il raggio delle curve si restringe. La piccola MV piace e convince in tutte le condizioni. Merito di un telaio in acciaio tubolana traliccio abbinato a due piastre in lega di alluminio, alla quale viene infurcrato il forcellone. Della partita anche il sofisticato comparto sospensione, completamente regolabile. Parliamo della forcella Marzocchi con steli da 43 mm di diametro e del mono griffato Sachs. 128 invece il numero dei cavalli che il compatto tracilindri a corsa corta è in grado di erogare a 14.500 giri. Numeri importanti che possono essere gestiti da tutti grazie ad un'elettronica sofisticata che comprende quattro mappe motore, di cui una completamente customizzabile dal pilota, controllo di trazione con otto livelli di intervento, launch control, antiwheeling e cambio elettronico. Costava al pubblico 12.690 euro. Costava al pubblico 12.690 euro.